Sì, è questa. Global Noisy Day, ecco. Ci sono tutti. Guarda, la Turchia. C'è l'Europa intera, è impressionante. Anche l'America del Nord. Centro-America. Soprattutto l'America centrale. Messico, Perù, Argentina. Molto bene. L'anno scorso erano tre città e quest'anno vediamo quante sono, sette, otto, nove, con la Nuova Zelanda. Che bello. Tu riesci a venire alla manifestazione? No. Non vieni? Perché? Sono molto impegnata. Partecipano poche persone, della tua età o più giovani, perché forse non si rendono conto di cosa sta succedendo qui e di che cosa può capitare in futuro. Una società borghese non può vivere senza lo shopping, senza le cose di marca, la birretta, la cena fuori. Siamo diventati pigri. Sì, ma questo sta finendo. Sì. Sta finendo. Dovrete darvi da fare. Sì. Chiaro? Perché noi non ci saremo sempre. Sì, il futuro che vi stanno lasciando è buio, molto buio.